Buongiorno a tutti quanti, scusate per il ritardo ma stamattina i cani hanno avuto la precedenza per le vaccinazioni e consueto appuntamento con le analisi su Bitcoin, Ethereum, Solana, quindi con la previsione per la giornata di oggi. Allora partiamo da Bitcoin, Bitcoin è una fase di fondo rialzista con il ciclo a 5 giorni, lo vediamo che è la nostra fase di rialzo prezzo sopra le medie mobile quindi corretto anche dal punto di vista tecnico, siamo però arrivati a scadente nel senso che tra le 10 di questa mattina, quindi già l'ora scorsa, il prezzo ha raggiunto il picco ciclo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il prossimo rialzo per rimanere nella tendenza di fondo lo potremo prendere in considerazione soltanto a partire da questa sera, il che rende sostanzialmente improbabile se non impossibile cercare una condizione rialzista. Quindi condizione ribassista per quanto riguarda un ciclo giornaliero, la si può prendere sì ma siamo sopra le medie mobile cicche che quindi per quanto riguarda Bitcoin si è completamente tagliati fuori dall'opportunità di poter fare operazioni. Il livello attuale per il long è già stato rotto ma è appunto arrivata a fine corsa, infatti vedete che il mercato non ce l'ha fatta, quello per il ribasso che però ripeto non si può prendere in considerazione perché siamo sopra alle medie mobile cicche e parliamo del livello comunque di 64.622, quindi il prezzo è comunque lontano, quindi nessuna opportunità per quanto riguarda Bitcoin. Ethereum invece è diverso perché il trend di fondo, siamo arrivati quasi a capolinea, lo vediamo, siamo sul picco del ciclo a 5 giorni, quindi in realtà di tempo non ce n'è molto a disposizione, però intorno alle 14 abbiamo un'opportunità di rialzo, l'opportunità che potremmo prendere a questo punto con la rottura, con gli occhiali giusti che non vada niente, con la rottura chiaramente dei massimi di oggi, vado a levare soltanto un attimo l'onda ciclica per poter selezionare il livello corretto, quindi stiamo parlando dell'opportunità di un rialzo con quanto riguarda i tir di un sopra 36.000, eh sì 36.000, 3.615, ovviamente leggermente tirato da un punto di vista del tempo perché abbiamo soltanto il ciclo giornaliero che è nella sua fase di rialzo, che è prevista a terminare intorno all'1 di questa notte, quindi giornata interamente al rialzo, però assolutamente l'opportunità rimane intatta, brutto, l'oscillatore è completamente piantato in ipercomprato. Per quanto riguarda invece Solana, Solana in una fase ribassista fino alle 2 di questa notte, è sopra i minimi di mobilio ciclica, ma non è tanto lontano da poter breccare un momento al ribasso, qualora ciò avvenisse allora diventerebbe interessante un'opportunità rimassista sotto 132.47, ieri mercati immobili ovviamente a causa della lateralità, cioè immobili scusatemi a causa della chiusura dei mercati americani, ormai le criptovalute si muovono esclusivamente con gli orari di borsa e con i movimenti generati dai grandi operatori, quindi ieri liquidità pari a zero anche sulle criptovalute. Come sempre ti invito a unirti al mio canale Telegram gratuito, che trovi qua sul mio sito www.threadingpertutti.com, valutare l'iscrizione del servizio segnali dove do anche indicazioni sulle criptovalute e soprattutto l'indicatore Volta per poter lavorare con il metodo che tu ormai vedrai tutti i giorni, stai vedendo tutti i giorni, essere incredibile nel prevedere letteralmente il futuro movimento delle criptovalute. Ti aspetto ovviamente, troverai i dettagli qua in alto a destra e sotto nei commenti. Iscriviti al sito e metti un like. Ciao e alla prossima!